L'ecografia, Tina Caramanico 11 maggio 2012 Caro diario dell'attesa Sono già otto settimane che ti ho comprato e che ti rimiro Tutto bello, rosa e azzurro, intonso nel mio cassetto Ma non basta un test di gravidanza positivo per crederci Proprio non riuscivo a convincermi, a pensare che davvero Nella mia pancia galleggiasse e crescesse un esserino sconosciuto che sarà mio figlio Ma oggi finalmente mi sono sentita una mamma Dopo tutte queste settimane di nausea e di incertezze ho fatto la prima ecografia Sergio ha chiesto un giorno di ferie e mi ha accompagnato all'ospedale Eravamo tutti e due agitatissimi Lui si tormentava le mani e la barba Io avrei voluto scoppiare a piangere per ogni sciocchezza Abbiamo aspettato più di un'ora in sala d'aspetto E non siamo riusciti a fare nulla, né parlare, né leggere Tantomeno a dare retta alla signora seduta di fianco a noi Che pretendeva di raccontarmi tutti i problemi di sua figlia in gravidanza Per fortuna, alla fine, l'infermiera mi ha chiamata E mi ha fatta stendere sul lettino per l'ecografia Sergio ha potuto entrare e stare vicino a me, tenermi la mano Quando il dottor Santini ha cominciato a guardare il monitor dell'ecografo Ho capito subito dal suo sguardo attento e un po' preoccupato Che le cose non stavano come lui si aspettava Ho sentito una gran voglia di piangere Ma non ho avuto il coraggio di chiedere nulla Non volevo disturbarlo Ho solo stretto più forte la mano di Sergio E ho chiuso gli occhi per trattenere le lacrime Dopo qualche istante il dottore mi ha guardato con un sorrisetto trattenuto Signora, c'è una sorpresa Sergio ha fatto un piccolo salto all'unisono con il mio cuore Il dottore, mostrandoci sul monitor due puntini lampeggianti, ha continuato Vedete, non c'è un solo cuoricino che batte Sono due Avete due gemelli Il tempo di riprenderci dalla notizia è imprevista e imprevedibile E io e Sergio eravamo abbracciati Felici, commossi E sporchi di gel Ma non ci importava Bene, caro diario Avremo due bambini O due bambine Il dottore ha detto che per ora non si può dire che siano gemelli uguali o diversi Quindi potrebbero anche essere un maschio e una femmina Ma tanto è ancora presto per pensare al corredino La data presunta del parto cade giusto poco prima di Natale, il 21 dicembre Sergio, ridendo, mi ha ricordato che il 21 dicembre 2012 è anche la data della presunta fine del mondo Giusto, ho detto io I miei figli saranno proprio la fine del mondo Tutti e due 8 giugno 2012 Caro diario Oggi è un giorno davvero triste Continuo a piangere e a disperarmi Non avrei mai pensato che potesse succedermi questo Non è giusto Oggi ho fatto il secondo controllo dal dottor Santini E l'ecografia ha rivelato che solo un bambino ha continuato a crescere L'altro l'ho perso Non c'era più E' scomparso Non ha lasciato traccia Gridando come una pazza ho chiesto al dottore com'è possibile che non si veda più niente E lui, serafico e compassionevole, mi ha spiegato che è una cosa che accade di frequente con i gemelli Nelle prime settimane di gravidanza Uno dei due svanisce letteralmente nel nulla Mentre l'altro continua a crescere sano Ma io li amavo già tutti e due I miei bambini 13 luglio 2012 Io credo sia un miracolo vero quello che è successo oggi Anche Sergio, che vuole essere razionale In realtà continua a ridere e a piangere E non sa come spiegarsi l'esito del terzo controllo ecografico Quello che abbiamo fatto oggi dal dottor Santini Io ero un po' triste Perché tornare in quell'ospedale mi faceva pensare al mese scorso Al bambino che non c'era più Certo, in queste settimane ho cercato di farmi forza Di stare il più possibile serena Per l'altro piccolino Non voglio che cresca nutrito dalla mia malinconia Sergio non diceva niente Ma dal suo sguardo capivo che anche per lui era difficile Quando il dottor Santini ha cominciato a passare la sonda sulla mia pancia Ancora una volta ho visto le sue sopracciglia aggrottarsi Il suo sguardo a farsi più serio e attento Questa volta non ho saputo controllarmi e terrorizzata Dall'idea che avesse di nuovo una brutta notizia da darmi Ho chiesto subito Cosa succede dottore? Qualcosa che non va? Lui non ha risposto Non ha distolto lo sguardo dal monitor Ha mugolato solo qualcosa come Un momento Dopo Sergio che era di fianco a me Non ha potuto aspettare più neppure un istante Ha lasciato la mia mano E si è spostato un po' dalla parte del medico In modo da poter vedere il monitor L'ho visto sbiancare per un attimo Poi sorridere come un ebete e dire Dottore ma sono due Di nuovo Ebbene sì caro diario Il mio bambino svanito è tornato È grande come l'altro Anzi forse un pochino di più Il battito è sano e forte Il dottor Santini era confuso Vergognoso Non sapeva come spiegarsi questo miracolo Continuava a ripetere Non mi era mai successo Un errore così grossolano Scusatemi Scusatemi davvero Ma noi eravamo troppo felici Per poter questionare sui errori Ma noi eravamo troppo felici Per poter questionare sui suoi errori Siamo tornati a casa in macchina Cantando a squarciagola 10 agosto 2012 Non so come dirtelo caro diario Non so come dirtelo Dirlo mi spaventa Ecco la verità Non ho neppure versato una lacrima oggi Quando me l'hanno comunicato Mi sembrava che il mio cuore Fosse diventato una pietra E mi sentivo stupida Stupida e arida E ancora così mi sento Lo so che è una reazione di difesa Lo so che passerà questo stordimento E poi quando tornerò a sentire Sarà peggio Oggi Sergio non poteva accompagnarmi Alla visita di controllo mensile Ma l'ho rassicurato Tranquillo tanto So che va tutto bene Ho una fame da lupo E guarda che pancia grande Mi sta crescendo I bambini sono sani di sicuro Invece no Ancora una volta Dottor Santini Ha dovuto guardare E riguardare nel monitor E dirmi cercando Di non spaventarmi troppo Che un bambino è sano E cresce regolarmente Il secondo purtroppo Sembra strano Sono saltata a sedere sul lettino Rabbiosa Dottore Non scherzi Per cortesia Cosa significa Strano Signora La prego Stia calma Ancora non riesco bene a capire Di che tipo di anomalia si tratti Anche se certamente c'è Un'anomalia Nel gemello scomparso E poi ricomparso Forse il problema Si definirà meglio Tra qualche settimana La prego Non si agiti adesso Vuole chiamare suo marito Ora mi darei dei pugni in testa Per non aver saputo reagire Per non averlo costretto A parlarmi più chiaro Ma sono diventata stupida Una pietra stupida Che si faceva trascinare via E non faceva domande 13 settembre 2012 Abbiamo fatto due controlli Questo mese E mi hanno sempre rimandata a casa Senza una diagnosi chiara C'è un'anomalia In uno dei gemelli Ma nessuno dei dottori Che si sono alternati A scrutare nel mio ventre Ha saputo O voluto dare un nome A questa stranezza Non è necessario Che io spieghi Come li ho passati Questi giorni E come li ha passati Sergio insieme a me E domani Infine L'ennesimo esame ecografico Il mio ventre È estremamente gonfio Più di quello Delle altre donne Che si trovano Allo stesso stadio Della gravidanza I bambini I bambini si muovono Moltissimo Scalciano E già non mi lasciano Dormire la notte Se devo essere sincera Mi pare che sia proprio Il bambino anomalo Quello che si muove di più 14 settembre Ce n'è di nuovo uno solo Quello strano E questa stranezza Davvero deve essere Qualcosa di mostruoso E indicibile A giudicare dal numero Di medici Professori assistenti Specializzandi Primari Che si sono affannati Ad accorrere Per assistere Alla mia ecografia A 3D Per poi Tacero inorriditi Di fronte A ciò che vedevano Dell'altro Il mio bambino Il mio piccolino Non è rimasto nulla Nessuno me l'ha ancora detto Ma io ora so Sto nutriendo Nel mio ventre Un mostro Una creatura orrenda Che ha deciso Di usare il mio corpo E ha ucciso I miei figli Per prenderne il posto Ed è questo Misterioso assassino Che io darò Alla luce Il 21 dicembre Nessuno sembra Poterlo fermare E io tremo Tremo Al pensiero Di ciò che accadrà dopo